ciao a tutti ragazzi come state? bentornati sul mio canale allora non so se mi sentite bene perché c'è un casino mai visto fa talmente tanto caldo che io già questo poco di trucco che ho per me è veramente tanto infatti io davvero invidio tutte quelle ragazze che d'estate si truccano perché io proprio non ce la faccio già di mio per tutti i giorni io non mi trucco tanto lo sapete ma in estate proprio non ce la faccio infatti come fanno quelle persone a mettersi tanto fondotinta in faccia? stavo vedendo un video di una ragazza e mi faceva ridere perché diceva nel video e io non riesco mai ad abbronzarmi al mare quando vado al mare oppure quando prendo il sole non riesco mai ad abbronzarmi il corpo più o meno me lo abbronzo però la faccia rimane bianca allora io siccome vedivo che questa si truccava pure per andare al mare allora io mi domando e mi dico è ovvio che non ti abbronzi siccome ti trucchi quindi come fa il sole a penetrare nella pelle cioè sulla pelle si è tutta coperta di trucco poi un'altra cosa che io non sopporto è tipo avere la bella abbronzatura e la faccia che sembra una maschera e quindi niente sta cosa mi faceva ridere comunque a parte tutto oggi faccio un video di show and tell fashion diciamo perché uno è da tanto che non li faccio due mi ha contattato shin magari poi vi metto anche qualche foto su instagram e vi metto tutto giù in infobox per quanto riguarda il link di shin i link delle cose che vi mostro e anche per quanto riguarda magari se mi danno qualche codice sconto adesso non lo so devo controllare però come sempre vi lascio tutto giù in infobox quindi dateci un'occhiata anche se ho visto che shin ha i salti e ha un sacco di cose scontate infatti vorrei fare un'ordine proprio io personalmente con i miei soldi perché vende tante belle cose scontate comunque direi di partire subito dal video cioè dal video con il video così vi mostro le cosine che vi mostro le cose scontate shin mi ha mandato un cinque cose tutte molto belle tra l'altro mi devo ricordare di non buttare queste queste bustine perché possono sempre servire e io ogni volta le butto sempre allora magari vi faccio vedere come mi stanno indossate le cose quindi o vi farò vedere degli spezzettoni di video mentre indosso gli abiti oppure a fine video vi faccio vedere come mi stanno tutti quanti partiamo subito la prima cosa che ho scelto è questo top io scelgo sempre cose molto basiche perché sono quelle che uso di più comunque mi fa piacere chi mi abbiano contattato perché è da tanto che non collaboro con un'azienda tanto tempo fa venne un periodo che mi mandavano solo cose adesso non più quindi mi fa piacere che ogni tanto si ricordano che esisto anche perché mandano a cane porci quindi allora la prima cosa che vi faccio vedere è questo top che visto così non rende perché sembra una cosa a caso ma in realtà è veramente molto carino è questo colore troppo bello lilla io adoro il lilla e il viola ed è a scollo a barca diciamo quindi rimane molto fine e trovo che questo scollo sia veramente ideale per chi come me ha pocosino o quasi zero ed è così magari ve lo faccio vedere indossato diciamo questa specie di croce sulla pancia così rimane a crop top quindi già avete un po' di pancia da fuori poi mi hanno mandato questo top qui sempre taglia xs a me piace veramente tanto la roba di shin perché è tipo come la roba di zaful quindi la qualità è buona e mi piace questo top è tipo ad intreccio vedete ha i fiocchetti quindi praticamente ve lo intrecciate adesso vi faccio vedere meglio perché così ovviamente non ci capite niente gli ci fate il notino dietro la schiena io questo qui già l'ho indossato sabato perché sabato praticamente sono uscita di sera sono andata in una specie di ristorantino giù al mare e ho messo questo top con una gunna di jeans a vita alta e io sono andata a mangiare pesce mamma mia da quanto tempo non lo mangiavo così buono io adoro veramente mi piacerebbe vivere tipo in un posto tipo su un'isola mangiare pesce frutta e pasta va bene così cioè buonissima adoro abbronzarmi bellissimo mi hanno poi mandato questo top questo qua vedete è tipo una specie di magliettina tipo cardigan però è sempre un crop top a mezze maniche però mi piacciono i bottoncini vedete questo secondo me è bello con un reggisino perché così ha una bella scollatura perché se siete come me che avete poco sino quando vi mettete questi top scollati è un po' brutto perché qua siete veramente sec io qua in petto sono veramente proprio osso e quindi una bella scollatura magari un reggisino push up che stringe un po' il tutto è molto sexy poi chi ha meno sino secondo me se lo può permettere perché è più carino e non è volgare invece chi ha tanto tanto sino con una scollatura così secondo me almeno per quanto mi riguarda è abbastanza volgare questa però è una taglia S e mi va un po' larga io non so perché mi ostino a prendere le taglie che non sono le mie taglie cioè ancora non ho capito questa cosa però tutto sommato è carina poi questa è cos'è è un vestitino verde con dei fiorellini sopra come si portano adesso vedete così con le bretelline qui in alto e questo è taglia XS ed è molto carino anche per dire anche per dire con un paio di tacchi bianchi che io non ho infatti volevo comprarli adesso vedo un po' dove e poi ultimamente mi piace molto il verde tra l'altro ho visto che Shein vende tanti paio vestiti anche un po' più elegantini infatti ho fatto l'ordine senza pensare che avrei potuto prendere un vestito per la promessa di matrimonio che dovrò fare ad agosto e ad inizio agosto vendivano tanti paio vestiti verdi ma non ci ho pensato e poi ho comprato un vestito da Asos che non so se mi andrà bene poi magari vi farò vedere comunque intanto vi faccio vedere questo dite così e dietro è così con la molla è un vestito molto avvitato diciamo qui sul torace e scende un po' svasatino sulle gambe diciamo è corto però è carino non è non è volgare e ed è molto carino veramente vi faccio vedere come mi sta poi l'ultimo capo l'ultimo capo è una conna che io avevo pensato cioè mi sembrava di avere la scelta verde invece no la scelta rossa e guardate com'è carina così la qualità è ottima io l'avevo pensato anche con questo top incrociato e magari vi faccio vedere come mi sta l'abbinamento questa conna forse è un po' troppo lunghetta però è perché sono io che sono bassa però è molto carina quindi buon letto buon letto per committed questo è un po' più piatto ragazzi no paucano calcate Grazie. Grazie. Grazie.